Abbiamo parlato delle scritte comparse la notte di Capodanno su diversi muri e non solo del centro di Clusone. Sembra che però ci sia la possibilità di individuare i responsabili grazie anche alle telecamere del Comune. Innanzitutto permettimi di essere solidale e avvicino a chi ha subito questi danni e di rimproverare chi si diverte a danneggiare la proprietà altrui e la proprietà privata. Quindi assieme ai carabinieri e al comando di polizia locale abbiamo visionato le telecamere e da lì abbiamo individuato questo gruppo di cinque ragazzi che nella nottata dell'ultimo dell'anno ma anche in presto serata si è divertito a imbrattare alcuni negozi e alcuni muri della città di Clusone. Stiamo cercando di individuarli, a loro verrà sicuramente fatta una tirata d'orecchi coloro vengano presi perché non si dannezza la proprietà altrui però se mi ha concessa in mezzo a una cittadina veramente piena di turismi a una piazza manzù piena di gente che ha festeggiato l'ultimo dell'anno con grande simpatia. Ho sentito anche i carabinieri che tutto era sotto controllo e che quindi non vorrei venissero sempre enfatizzati queste brutte notizie. Clusone ha offerto negli ultimi 15 giorni tante cose positive. Quindi grossa condanna a chi veramente dannezza le cose altrui ma veramente uno spirito di contentezza per quello che abbiamo vissuto in questi 15 giorni a Clusone. Questo episodio dimostra l'importanza dell'impianto di videosorveglianza c'è in previsione di potenziarlo? Ma il potenziamento passa sempre attraverso le possibilità di bilancio e sappiamo che sono sempre poche le disponibilità. L'avere in funzione delle telecamere ci aiuta, ci aiuta tantissimo anche la collaborazione dei cittadini perché chi può aver visto in questo caso anche qualcuno che commetteva questi atti ben presto dovrebbe venire in comune a segnalare perché ripeto le telecamere hanno il loro funzionamento. Sappiamo che non possiamo mettere tutta la città di Clusone sotto la sorveglianza delle telecamere e quindi la collaborazione e le segnalazioni dei cittadini sono in primis quello che ci serve affinché queste ragazzate e queste cose negative che ripeto oltre alla tirata d'orecchie sarà necessario dover far pagare a loro, dare un forte segnale una volta per tutti perché chi danneggia ha l'obbligo poi di risarcire chi è stato danneggiato. Però il servizio telecamere vedremo di ampliarlo, è importante, è utile ma ripeto mettere sotto sorveglianza tutta la città diventa impossibile.